Se state avendo problemi riguardo all'avvio su Frostpunk 2 è possibile risolvere il problema aggiornando così DirectX sul tuo computer perché molti hanno avuto difficoltà che non è compatibile con DirectX 12 quindi in questo caso puoi risolvere il problema aggiornando così i driver sul sito DirectX Runtime ed eccolo qua questo qua si occupa soprattutto del DirectX 9, 10 e 11 e soprattutto anche risolvere i problemi riguardo all'audio ma ovviamente se tu installi questo DirectX puoi risolvere i tuoi problemi anche al crash e ai problemi di schermo nero su Frostpunk 2 quindi scaricando così il software scarichi e installi così il software facciamo sì accettiamo il contratto vai avanti non installare questo vai avanti scarica e installa così il driver se non dovesse bastare tasto destro sopra su mostra troppazioni proprietà prima di avviare il gioco ogni volta che accendi il computer compatibilità fai questo passaggio disabilità ottimizzazione schermo intero e fai applica rimuovi fai applica e di nuovo disabilità ottimizzazione schermo intero e fai ok se non dovesse bastare puoi semplicemente eseguire il programma come amministratore se invece riscontri tipo altri problemi tipo di escono delle schedine con degli errori puoi entrare nel mio server Discord mandarmi così queste schedine di errori mi informerò meglio sugli errori e farò anche altri tutorial sull'avvio di Frostpunk 2 quindi per ora il problema riguardo al DirectX lo puoi risolvere così il problema riguardo all'avvio di Frostpunk 2 lo puoi risolvere disabilitando le ottimizzazioni schermo intero oppure tasto destro su Start gestione dispositivi vai sulle tue schede video la tua scheda video aggiorna driver cerchi driver nel computer e scegli da un elenco di driver disponibili nel computer installi così l'ultimo modello avanti e installi così il driver eseguiamo come amministratore il gioco ovviamente prima di avviare il gioco puoi anche inserire Frostpunk nel Windows Defender quindi vai su Windows Defender può essere che la protezione da virus e minacce blocchi così la cartella con alcuni file dentro protezione da virus e minacce gestisci impostazioni esclusioni e facciamo sì una volta fatta aggiungi esclusione e aggiungi così la cartella di Frostpunk 2 metti direttamente la cartella di Frostpunk 2 qua dentro esegui come amministratore e facciamo sì ed ecco che il gioco è partito senza nessun problema quindi per altri problemi ancora come ho detto se ti escono altre schedine di errori puoi mandarle a me direttamente su Discord farò altri tutorial in futuro se hai problemi commenta e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao